Kate, duchessa di Cambridge ha abbagliato i fan unendosi a Tom Walker per una festosa esibizione al pianoforte dopo aver trovato grande conforto nella musica durante il blocco.Kate, la duchessa di Cambridge, che suona da quando era bambina, ha entusiasmato i fan mentre si sedeva al pianoforte a coda nell'abbazia di Westminster mentre suonava il pianoforte per Tom Walker nel suo toccante successo. Per quelli che non possono essere qui. Kate ha affermato che la musica è così importante per me, quando si parla delle lotte che sono state affrontate quest'anno, aggiungendo che è importante anche per tutti. La performance della duchessa è stata elogiata sui social media, con gli osservatori reali che l'hanno definita una vera delizia reale. Piers Morgan è anche andato su Twitter per elogiare Catherine, dicendo 18 mesi.La duchessa ha detto che abbiamo attraversato un periodo così triste e abbiamo visto così tante sfide, aggiungendo che il suo concerto di canti natalizi insieme a Natale è stato un modo per ringraziare quante più persone possibile. Kate ha aggiunto, abbiamo perso i nostri cari. Abbiamo visto i nostri lavoratori in prima linea sotto pressione immensa. E siamo stati anche più emotivamente e socialmente distanziati e isolati l'uno dall'altro.